Sì, se si può donare... Allora, vi faccio vedere una foto che faccio prima. Vorrei un taglio del genere, proprio rivoluzionario. Ho forse leggermente più lungo di questo, un po' così. Oh mamma mia. Ho un po' paura della prangia. La vorrei su, oh mamma mia. Allora, possiamo farli così? Facciamo prima un taglio, poi vediamo dopo come facciamo. Ok, va bene. Wow! Molto, no?